Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, ha incontrato a Pesaro, insieme al Presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, i rappresentanti dei pescatori di Ancona e Civitanova Marche. Un incontro costruttivo e proficuo, commenta Mastrovincenzo, in cui è emerso un grande spirito di collaborazione. La risoluzione delle problematiche della pesca nell'Adriatico non può prescindere dal coinvolgimento dei parlamentari europei, delle regioni e dei paesi interessati. Nel corso dell'appuntamento, organizzato dallo stesso Presidente dell'Assemblea Legislativa e dal Centro Innovazione e Sviluppo della Pesca, è stata avanzata la proposta di organizzare un confronto con tutti i parlamentari europei del centro Italia e, prima dell'estate, ad Ancona, i Stati Generali della Pesca. La presenza a questo incontro del Presidente Sassoli, conclude Mastrovincenzo, è stata fondamentale. Lo ringrazio per la grande disponibilità dimostrata. Grazie. Grazie.